A te penserò dopo. Per ora mi occuperò... ...della vita di tuo figlio. Sei il primo guerriero che incontro con un potenziale di questo livello. Mi dispiace eliminarti. Presa! Lasciami andare! Come hai fatto a riprenderti? Forza, Junior! Lancia il cannone! Mi sto concentrando, ma mi serve ancora del tempo. Bisogna che raduni le forze. Devi lasciarmi andare, Karoth. Che cosa credi di fare, pazzo? Sai bene che dopo avermi eliminato il tuo amico farà lo stesso con te. Vorrei dire che spariremo insieme. Ti devo ringraziare. Sarà un piacere far fuori anche te. Se riuscirò a fare centro oggi sarà una giornata che non dimenticherò mai. Dai, sbrigati, forza! Cosa? È salito a 1480! Scusa se ti ho fatto aspettare! Sei pronto, Goku? Cannone speciale! Cannone speciale! Mi alcol beato! Mi alcol beato! Grazie a tutti.